È stato fatto un lavoro molto importante dall'osservatorio del paesaggio e su questo Atlante raffigura la storia del Trentino, di tante valli, di tanti territori, di tante fatiche che sono state fatte in passato da molte persone per garantire e per rendere più possibile anche l'agricoltura. Quindi terrazzamenti, muretti a secco, che poi nel tempo a volte sono stati anche abbandonati. Quindi il nostro impegno oggi, oltre che alla presentazione di questo importante Atlante, è quello di dichiarare, di dimostrare l'impegno per garantire continuità a quello che è un lavoro importante fatto in passato, ma che vuole esserlo anche per il futuro, per chi? Soprattutto per le nuove generazioni, per i giovani, che oggi dimostrano ancora più passione per il mondo dell'agricoltura. E attraverso anche questi terrazzamenti che fanno paesaggio, che rendono ancora più bello il nostro territorio, sarà un modo per rendere più facile la coltivazione della terra, fare agricoltura. Grazie. Grazie.